Claudio Smarelli era un bambino di tre anni quando assieme alla famiglia dovette lasciare Pola la città dove era nato per evitare di essere perseguitato o ucciso ma che cosa ha rappresentato tutto questo comandante per lei bene ha presentato un grosso trauma naturalmente ero un bambino e i bambini riescono a superare tutto quanto ma sono stati momenti veramente brutti la mia figlia abitava a Pola da più di cento anni e dall'istria ancora di più quindi siamo veramente istriani veri patocchi come si dice in dialetto nostro io ricordo pur essendo piccolo ricordo il momento in cui papà fu incarcerato per esempio dai titini in quanto italiano nemico del popolo questa è stata l'accusa che gli rivolsero io avevo un anno e mezzo eppure un ricordo bello limpido di questi militari col col bacco vestiti alla russa tanto per fare un riferimento come sono vestiti i militari del paese dell'est col capotto lungo a campana e io che prendevo i sassolini da terra e li buttavo addosso e mia mamma era terrorizzata il papà quando è che esce dal carcere il papà esce dopo un anno e due mesi qual era la sua colpa di essere italiano e per questo era un nemico del popolo loro non gli perdonavano il fatto di essere un rimasto perché papà non è partecipato subito all'esodo iniziale ha cercato in qualche maniera rimanere ma devo dire che da quello che ho saputo sentito ho visto dopo non era veramente possibile era molto dura rimanere lì molto dura in pochi ci sono riusciti hanno tutto quanto il mio rispetto chi è riuscito a fare questo comandante ma cosa significa lasciare tutto questo per evitare il pericolo significa perdere tutto quanto perdere le proprie radici una cosa importantissima perdere gli amici il modo di vivere la sicurezza è perché si va verso un mondo che non si conosce certo italiani eravamo e in italia siamo tornati o rimasti ma non più con le sicurezze che avevamo nella nostra terra che è una terra bellissima e quindi è stato duro è stato psicologicamente impegnativo i segni sono rimasti per tutti quanti non ne parlano volentieri i vecchi che hanno provato veramente le cose di questa situazione sono ricordi interiori ricordi che è difficile a tirare fuori papà un uomo stanco di una certa età ormai era spesato non ha più voluto parlare ecco da lui ho avuto sprazzi solamente poi leggendo i documenti che mi ha lasciato ho capito tante cose ho ricostruito avevano tutto quanto dentro ma era brutte cose che avevano dentro comandante si è passati quindi da una situazione di disperazione ad una nuova vita ma non è stato semplice dopo pola che cosa è successo no non è stato affatto semplice dopo pola la famiglia ha dovuto per forza disunirsi nel senso che il papà che era insegnante di mestiere ma ormai aveva perso lo stato di ruolo e quindi ha dovuto andare a insegnare una scuola privata a mestre con l'aiuto di monsignor santin che era suo intimo amico che era il vescovo di trieste e capodistria viveva una stanza mobiliata io mia mamma mio zio suo fratello e sua mamma cioè mia nonna siamo andati a finire al silos il silos era uno di questi campi profughi anche se in realtà non era aperto ma era un grosso edificio che stava al centro di trieste dove noi avevamo lo nostro spazio che era uno spazio di quattro metri per cinque diviso da una coperta da una parte c'era una specie di cucina dove si mangiava dall'altra parte si dormiva avevamo la fortuna di essere vicini a una finestra avevamo un po di luce ma tantissime erano il buio completo d'inverno un freddo da morire d'estate un caldo da morire noi non eravamo liberi di uscire e di rientrare quando volevamo c'erano degli orari ben precise che voleva rispettare questo per quanti anni questo io sono rimasto sette anni al silos dai tre anni ai dieci anni fino alla fine era così mi ricordo mancanza anche di cibo non è che ce n'era da scellare naturalmente certo io come ragazzino c'è dei bei ricordi anche perché avevo gli amici eravamo tutti insieme giocavamo nel grande cortile che c'era fra le due ali di però insomma era una vita di sofferenza fra l'altro era un paese che aveva sofferto una guerra terrificante per cui noi eravamo bocche nuove da sfamare insomma non è che eravamo visti benissimi poi tutto questo è finito devo dire poi siamo alla vigilia degli anni sessanta c'è il boom economico e il boom economico l'abbiamo avuto anche noi ci siamo messi abbiamo trovato una casa abbiamo voluto rinficare la famiglia a mestre che non era neanche lontano dal posto dove eravamo sempre stati la parlata era simile insomma abbiamo ricostruito una vita come quasi tutti quanti i profughi gli esuli istriani tutti quanti si sono ricostruiti col lavoro una nuova posizione magari senza lamentarsi senza lamentarsi senza pensare di fare cose brutte e pesanti con tanto dolore dentro questo sì il dolore dentro è una cosa che non potrà mai andare via insito e proprio fa parte di noi per forza comandante lei ha poi fatto la sua vita l'ufficiale di complemento e poi dopo è transitato nei ruoli dell'aeronautica militare come pilota e poi comandante di aereo civile dell'alitalia ma è stata dura questa scalata sociale ora si sente a casa qui mi sento a casa io abito a ostia non andrei via nessun altro posto del mondo salvo l'istria naturalmente quella è preeminente ci sto benissimo i miei figli sono lì come i miei nipoti anche stanno bene e mi sono integrato completamente mi sembra di essere sempre vissuto a me però devo dire una cosa io sono tornato la prima volta in istra di nuovo nel 1998 dopo tanti anni che mancavo ebbene come sono entrato lasciando la zona di trieste dopo buia che comincia l'istria vera quella con la terra rossa mi sembrava di essere sempre stato a casa mia a me mi sembrava di sentire la terra che mi diceva finalmente sei tornato era ora secondo lei comandante se ne è parlato troppo poco di questo assolutamente per motivi che non sta a me giudicare per l'anno è stato messo nel dimenticatoio faceva comodo sembra quasi che c'era da vergognarsi non c'era nulla da vergognarsi questa è la storia del nostro paese e per cui va ricordata il 10 febbraio il giorno del ricordo è proprio un'istituzione per quanto mio che ha il suo motivo di essere ci deve essere e noi esulistriani siamo tutti quanti contenti che sia stato istituito è il giusto riconoscimento dei nostri dolori dei nostri sacrifici almeno quello siamo un po tutti alla ricerca di un nuovo inizio lei ha avuto un nuovo inizio ha avuto una famiglia bella dei figli dei nipoti ma che cosa si augura per loro mi auguro di avere una vita senza problemi sarà quello che si meriteranno devono impegnarsi per ottenere i pasti gratis non ci sono bisogna meritarseli ma soprattutto che non ci sia più un odio come quello che abbiamo provato a noi sulla nostra pelle quello è una cosa che non auguro nessuno e devono avere una vita normale tranquilla da uomo civile da uomo libero ecco questo gli auguro comandante qual è il messaggio che vogliamo lanciare alle nuove generazioni alle nuove generazioni devo dire che l'impegno paga bisogna impegnarsi e poi si ottengono risultati per quanto riguarda la questione del nostra dell'istria ricordatevi non c'è nessun rinvascismo da parte nostra noi abbiamo noi esuli strane avevo ben chiaro che la situazione è questa e non cambierà per cambiarla dovrebbero succedere cose sconvolgenti guerre cose del genere cose che non ci auguriamo basta è finita quell'epoca lì vogliamo cancellarle però non bisogna dimenticare che sono successe per cui ripeto questo giorno qua è un giorno positivo che deve essere visto come il ricordo di quello che è successo senza nessun desiderio di vendetta senza nessun odio però fa parte della storia del nostro paese ed è bene che venga conosciuta e venga divulgata grazie a tutti